buongiorno buongiorno un cazzo incredibile tutto bloccato non si sa perché non sa per come ritorneremo in italia chi lo sa incredibile ci avevamo il volo alle 10 e 40 non si è presentato nessuno al check in guardate la gente che c'è che sta aspettando saranno 200 persone tu dimmi mannaggia la cosa io mi sono vestito da peppa pig e niente questo è tutto sembrava di averle viste tutte invece questa è una foto raso terra ma poi ci metti di sotto pannocchia le ho viste tutte 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 le peripezie ecco ci stiamo avvicinando all'italia speriamo dai via ecco l'avion è l'avion non si sa un cazzo niente né quando si parte né quando si arriva niente si sa solo che lei parla il telefono a gogo non avete niente da fare come me in questo momento soprattutto c'è una che ancora dal telefono sta cliccate qua guardate a vedere un po' dei video così tanto per basta fare così arrivato a barcellona tempo pazzesco sole 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 adesso bisogna aspettare un po' di ore qua credo un'oretta e mezza due poi arriva a roma volevo pranzare non so se fa il maiale come al solito o se pranzare un po' più elchi anche perché ho visto un po' di commenti sulle foto e mi avete detto mi sono ingrassato a me me ne frega proprio un cazzo io sto bene così poi c'è sempre tempo che sciupassino quindi uno quando c'ha periodi che c'ha più fame mangia quando c'ha meno fame non mangia non vi fate complessare a ste cagate perché non fate come vi sentite un po' che non mangiavo un hamburger sudicio eccolo madonna non vi ho detto che stamattina è successa una cosa ci levo anche gli occhiari la vedrete nelle prossime storie ho gonfiato giù ho gonfiato gioserra guardate credibile ho incontrato un mio amico a barcellona c'è ma e lui sta fermo di lì guarda aspetta po' l'amico mariano ti 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 quanto è bellino eh quanto è bellino guarda guarda mariano quanto è bellino ma quanto è bellino ma quanto è bellino ma dai star porta a roma andiamo a perugia via aaa ma quanto è bella la macchina aaa la macchina aaa che non trezzica aaa bella che non trezzica se se aaa bello via di sette bagni perché sette bagni ti asciughi che cagata questa sempre la dicevo sempre perché ho fatto tante volte perugia fiumicino tante tante vabbè chi si muove ritirare la testera arrivederci ma vaffanculo oh nooo eccola mi si va a chiamare il telefono eccolo 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 come è tutto bene tutto bene ma ne strilla no ne sto strilla ma come è il telefono sei contento beh eh allora che hai fatto questi giorni sono stato un ferio si bravo 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 ora quanto è contento eh sono stato un ferio ieri segnita perugia stamattina sono stato la mutua oh tutto al top eh eh no si ma adesso questa mi ora facciamo un operazioncina di qui dall'orecchio stiamo al top 7 dicembre lo so lo so lo so oh no che stai a fare nel vedere che stai a fare mi lavo le mani e che hai fatto l'ho fatto pisciato e dopo che fai e dopo vado a mangiare fai ma di dio e a me sta proprio i coglioni incredibile torno a casa ventisei gradi ventisei gradi ventisei gradi è più caldo che hai pizza incredibile ma come mai in ventisei gradi o no? oh perchè perchè in ventisei gradi? e perchè vado a mangiare? oh oh ah ma come mai sono a ventisei gradi? e quando adesso? ma almeno ventuno no sono me stasera c'è un balletto brasiliano mannaggia il babbo ma che fai male a fai oh che sega come? ma tu che persona cosa ho fatto? hai fatto l'auli con il diavolo va bene va via va via va via ma chi è? va via ma chi è? è una festa di chi? di chi è la festa? è una festa di Halloween no è una festa di uno stronzo che ha fatto una festa con il diavolo il demonio va via il demonio va via va via il demonio va via se ti fai un braccio no va via qui sei ammurati? va a pregare pregare ma fa la festa con quello stronzo chi è? eh dovina che sabellino ma perchè era il va via va via va via eh no dai coi piedi va via è una festa va via mi hai deluso va via no t'ho deluso? sì ma di qui è un caldo infernale però scusa mamma mia che caldo c'è il caldo dell'urr va via che hai fatto tu? va via che hai fatto tu là? sono sempre a pregare va via ma perchè? va via ma perchè? con quello guarda che ti vuole pelle e ti dico non è con te pelle fa così vedi lo scotch come mai è blu lì? perchè è blu? eh eh testa di cazzo ce lo dici ancora? perchè? con che? tu tu con... con... con che? oh lasciati qui ben freddo eh lme la mia cazzo non lo fianto è che la mia doppia incredibile ragazzi è successo 27 gradi coppacabana pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pra buaa ma sì suda ragazzi che è o no? questo E' un filo d'amico. E tu che vieni a casa sua? Tu che vieni a casa sua? Chi è? Beh, ma ne vuoi. No, 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 lei ha toccato l'Inter. Chi gioca l'Inter? Ma non ne so. Che squadra è? Ma che cazzo? Lo? Che c'è scritto? Si. Si che? Si? Si, si, che cazzo ne so che è. Il palo, chi l'ha preso? Eh, l'ha preso il palo. Chi l'ha preso? Ma che cazzo? Chi ha preso palo? Non lo so chi era. Ma chi era? Non ne so chi era. Ma dine uno. Era uno. Chi era? Come Baresi. Ma che stai a dire? Barella? No, l'ha preso Lautaro. Ma tu che stai a guardare? Eh, va bene, sarà Lautaro. Vai qua e vedi. E' stato qui a televisione. E' 50 pollici la televisione, come fai a non vedere? Come Barella. Beh, io la vedi. Go! 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 Chi ha segnato? Stankovic. Ma com'è stanko? E allora? Sarà riposato, se ne è stanko. Beh, ha segnato Brozovic. E beh, Brodovic. Ah, Brodovic. E sarà lui, sarà. Chi ha segnato? Chi ha segnato? Chi ha segnato? Brodovic. Brodovic. Gran gol di Brodovic con i cappelletti. Chi ha segnato? Brodovic. Chi ha segnato? Brodovic. Chi ha segnato? Vabbancu, lo. blum. Oh! adesso si! No x8 Chi ha segnato? Chi ha segnato? Grignas Chi ha segnato? Non l'ho visto Ti pareva? Il nino Maraviglia Maraviglia? Eh Io ne conosco Chi ha segnato? Sanchez Chi? Sanchez Chi? Sanchez Però, ascolta Nulla perché? Eh, mi fai di 78 volte Oh, Andrea è entrato Eccolo il nostro, Andrea Chi è entrato? Andrea, la nocchia Ha fatto una pariere, ma Ti è piaciuta? Porca maia, l'ha giocato come un gioco Proprio bene, bene, bene